Preoccupazione, tensione, dispiacere, dolore. Metà della mia famiglia è in Israele. Siamo molto preoccupati per i ragazzi e le ragazze, ma soprattutto per i bambini. Bambini che non si possono commentare, fanno male al cuore. Io ho un figlio di 20 anni, esattamente 22, c'è una marea di amici che sono stati richiamati. Sono chi fa parte dei riservisti, sono tutti richiamati, sono tutti al fronte. Siamo angosciati per le immagini orribili che tutti abbiamo visto. Il timore è che questo nuovo modo di fare guerra possa essere esportato in Occidente, in Italia o anche qui nelle nostre città. Abbiamo questa sensazione di una difficile soluzione e che ci tortura. In Israele sono stati sottoposti a rastrellamenti e deportazioni. Non pensavamo si potesse arrivare a questo punto.